In Abruzzo resta in piedi l'ipotesi di accorpamento di alcune scuole, così come stabilito dalla regione. Il taglio di cinque istituzioni scolastiche per il prossimo anno, tre in provincia di Teramo e due in provincia di Chieti, riguarderebbe il Liceo Artistico di Castelli e l'Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso con le Dara, il Convitto Nazionale e l'Istituto di Istruzione Superiore Delfico di Teramo, gli istituti comprensivi di Civitella, Torricella e di Campli, l'Ipseo a Marchitelli di Villa Santa Maria e l'Istituto Comprensivo di Quadri e infine l'Istituto Comprensivo di Castelfrentano e il Comprensivo d'Annunzio di Lanciano. In provincia di Pescara il piano della regione ipotizza invece di annullare il dimensionamento scolastico già fatto nell'anno in corso tra gli istituti 1 e 7, con il ripristino di due distinti comprensivi. Sul dimensionamento scolastico i sindacati avevano già espresso parere negativo. Davide Desiati, segretario generale della CISL Scuola per Abruzzo e Molise, spiega le ragioni di questa contrarietà. Oramai da anni diciamo che la rete scolastica abruzzese era ben organizzata, non doveva subire tagli, soprattutto perché significa tagliare nelle aree interne, nelle aree montane, progressivamente desertificare quelle zone, togliere la gestione delle scuole in quelle aree, che significa progressivamente crearci pluriclassi e chiudere i plessi scolastici. Noi abbiamo oramai raggiunto una media di alunni per scuola di 900 alunni in Abruzzo. Per il tipo di regione, il tipo di territorio regionale e così via, è ampiamente sufficiente a un ipotetico contributo di taglio a livello nazionale delle istituzioni scolastiche. La riduzione delle istituzioni scolastiche di per sé ha un impoverimento delle scuole nell'ordine di decine di unità di personale. Che tempistica si prevede? Quando eventualmente si avrà la certezza di questi accorpamenti? Gli accorpamenti vanno necessariamente deliberati entro il 31 dicembre, per il prossimo anno scolastico. Quindi la regione, a meno di far cambiare una norma nazionale e attenuare questo taglio, entro il 31 dicembre dovrà tagliare quattro istituzioni scolastiche. I sindacati più volte hanno anche ribadito la necessità di risolvere piuttosto altri problemi. Certo, abbiamo problemi enormi per quanto riguarda il trasporto scolastico, l'effettiva fruibilità dell'offerta formativa. Abbiamo un unico istituto nautico in regione, ma l'istituto non è raggiungibile dalla regione e non ha servizi come ad esempio un convitto. I convitti sono in grande sofferenza, invece andrebbero rilanciati proprio per far fruire in una regione come quella abruzzese, con un territorio così diversificato, soprattutto montano, con poco trasporto, di far fruire effettivamente dell'offerta formativa esistente. Da tempo proponiamo un confronto per mettere al centro i reali problemi della scuola. Al momento questa interlocuzione con la regione non c'è.